Ore concitate in casa biancoscudata dopo la clamorosa sconfitta subita al Luis Ribolla di Palermo contro il derelitto Monreale, ormai retrocesso. Il risultato di 2-1 arrivato dopo che la squadra biancoscudata era addirittura passata in vantaggio con un gol di Pardo non concede attenuanti. Ieri sera il tecnico Angelo Bognanni, deluso per la prestazione superficiale fornita dalla squadra dove si è evidenziato uno scarso attaccamento alla maglia, ha rassegnato le dimissioni d'allenatore ma il presidente Arialdo Gianmussoli ha subito respinte invitando il tecnico a rimanere al suo posto. Nel contempo il presidente ha strigliato la squadra per l'ennesima prova scadente fornita contro un avversario nettamente al di sotto dal punto di vista tecnico. Per questo motivo sono stati congelati tutti i rimborsi spese fin quando la squadra non ritornerà a successo dimostrando impegno e attaccamento alla maglia. Una sconfitta pesantissima quella della Nissa che praticamente estromette ormai quasi definitivamente la squadra dai giochi per l'ingresso nella zona playoff e domenica c'è da fare i conti con una trasferta proibitiva, quella sul campo della corazzata Misilmeri, terza forza del campionato. Continuando ad esprimersi in modo così scadente e superficiale sarà difficile evitare una dura lezione. Insomma la situazione è veramente difficile, serve uno scatto d'orgoglio immediato per cercare di finire in modo dignitoso questa stagione a dir poco deludente.